Prima di scoprire questo crocifisso, dare la benedizione e inaugurarlo, vorrei innanzitutto dire alcuni grazie. Il primo grazie va al nostro sindaco. Lo ringrazio sempre perché ha davvero a cuore non solo il nostro paese, ma anche la nostra parrocchia e quindi va tutta la nostra gratitudine a lui. Il grazie di oggi è perché ci ha dato l'autorizzazione e ha favorito il poter mettere il crocifisso in questa crocevia, che è un crocevia importante del nostro paese, come già vi accennavo durante l'Omelia in Chiesa. Quindi grazie con tutto il cuore, Sergio. Il secondo grazie lo voglio dire a Sergio Pozzi, perché è lui che ha regalato tutte e quattro le croci che poniamo ai quattro punti delle nostre tre parrocchie. Quindi voglio dire anche a nome vostro tutto il grazie per questo dono che ha fatto, un dono davvero importante. La terza persona che voglio ringraziare è la famiglia che ha donato il Cristo, che ha donato la scultura fatta da uno scultore che lavora in Val Gardena e che è stata posta su questa croce. L'ultimo grazie, ultimo in ordine di pronunciamento, ma non ultimo nel senso che meno importante va ai nostri alpini, che hanno fatto tutto il lavoro necessario per hissare questa croce, non solo questa, per curare questa aiuola e per appendere il Cristo. Quindi a tutte queste persone che ho detto grazie, desidero che la benedizione di Dio scenda copiosa, perché permette a tutti noi appunto di fissare i nostri occhi in colui che è il nostro Dio e ci permette di poter manifestare a tutti chi è il primo orgoglio della nostra vita, ossia Gesù Cristo. Deus in adiutorium meum intende. Domina da Giovandam necestina. Gloria Patri et Filio et Spiritui Santo. Sicuterat in principio e dunque sempre, ed in secola secolorum. Alleluia. Domina da Giovandam necestina. e tu a suggestore in peccati, qui gaudevat in prevaricazione primi ominis, per vetiti lignis unzionem, qui cun Deo, Patre, vivit et regnat in unitate Spiritus Santi Deus, per omnia saecula secola secolorum. Amen. Progamus Te, Domine, Sante Pater, onnipotens, sempiterne Deus, ut dignieris benedicere oclinium crucis Tue, ut sit remedium salutare generi umano, sit soliditas fidei, bonorum operum profectus, et redenzio animarum, sit solamen ac protezio ac tutela, contra seva iacula inimicorum, per dominum nostrum Iesum Christum filium Tuum, qui vivit et regnat in unitate Spiritus Santi Deus, per omnia saecula saeculorum. Santificetur, istud crucis, sinium in nomine Patris, et filii, et Spiritus Santi. Amen. Utorantes, inclinantesques e propter, Deum ante istam crucem, inveniat sanitatem corporis et anime. Amen. Uppini, riposo. La liturgia prevede a questo punto che ciascuno di noi dia un bacio al crocifisso, ma siccome c'è l'aiuola e c'è il rischio di rovinarla, a nome vostro lo darò io per tutti. Grazie di cuore a tutti e come dice Papa Francesco, buon pranzo e buone domeniche. Grazie. 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 Grazie.